Ciao ragazzi, oggi le notizie sono tante, dai risultati alle elezioni comunali, che andrebbero sicuramente commentati in maniera approfondita, al premio Nobel per la fisica vinto da un italiano, a Pippo Franco indagato per Green Pass falsi, ma forse la notizia che ci interessa più da vicino riguarda proprio il crash che ieri ha interessato Facebook, Instagram e WhatsApp, causando un blackout e un'interruzione dei servizi a livello globale, come non si verificava da molti anni, sia perché è durata molte ore, sia perché ha interessato contemporaneamente tutti i servizi di Facebook. Oggi è stato appurato che non si tratta di un attacco informatico, ma di un problema tecnico, in pratica un aggiornamento di routine delle configurazioni dei router, dei server di Facebook, ha generato un problema che si è propagato e a cascata, ha fatto crollare l'intera rete. Se vogliamo andare proprio nel dettaglio, si tratta dei protocolli BGP, che sono un po' la mappa delle informazioni in rete, che gestiscono tutti i dati che dagli utenti vanno verso Facebook e da Facebook verso gli utenti. Per cui, se la mappa non funziona o viene a mancare, i dati semplicemente non sanno in che direzione andare e quindi restano bloccati. Questa cosa qui ha generato un grandissimo danno non solo d'immagine per Facebook, in quanto da anni è sotto attacco per il fatto di avere una rete poco stabile e poco sicura, ma anche economico, perché Facebook è crollato in borsa perdendo 6 miliardi di dollari. L'aspetto, secondo me, però più interessante che ci deve far riflettere è il fatto che oggi Facebook viene utilizzato nel mondo da 3,5 miliardi di persone, che non lo usano solamente per chiacchierare o condividere nel proprio tempo libero, ma in molti casi lo usano per il proprio business. Immaginate quanti negozi, quante aziende lavorano con Facebook, Instagram, WhatsApp e ieri hanno visto interrompersi tutte le loro attività, quindi hanno ottenuto anche loro un bel danno economico e d'immagine. In più Facebook realizza e vende una serie di servizi anche legati ad esempio alla domotica per la gestione degli ingressi, per la gestione dei televisori, degli elettrodomestici, di tanti impianti e anche tutti questi servizi ieri sono andati totalmente in tilt, per cui la cosa paradossale è che ieri i dipendenti di Facebook che sono andati in ufficio non sono riusciti ad entrare negli uffici di Facebook perché i loro badge non funzionavano più, così come i tecnici che dovevano accedere ai data center per risolvere il problema sono rimasti tagliati fuori e allo stesso modo tutti i dipendenti di Facebook che dovevano lavorare e comunicare per risolvere il problema hanno visto venire meno tutte le app di Facebook e hanno dovuto utilizzare quelle dei concorrenti come FaceTime, Apple, Twitter e via dicendo. Questa cosa qui mette in luce il fatto che le nostre video sono sempre più legate a tutti i servizi digitali, ma che quando tutti i servizi sono centralizzati e gestiti da un'unica azienda, nel momento in cui quell'azienda viene meno per qualsiasi motivo, la nostra vita si ferma, per cui è molto meglio ovviamente se i servizi sono diversificati, per cui sono gestiti da tante aziende diverse, nel momento in cui una di queste è un problema, il resto del mondo resta in piedi, altrimenti quello che potrà succederci in futuro è che per colpa di un programmatore dall'altra parte del mondo che sbaglia di inserire un numero in un indirizzo IP, la nostra vita si ferma, noi restiamo chiusi fuori casa oppure torniamo in casa e non ci funziona né la lavatrice né il frigorifero.